Mi posso garantire che ci sono tanti anziani, se non ce l'ho con gli anziani ovviamente non ce l'ho con i giovani, che ai bar sono senza mascherine, giocano a carte eccetera eccetera. Guardate, non è una questione di giovani e anziani, anche perché vi faccio un'affermazione. Allora, ci hanno così terrorizzati tutti quanti, questa questione del Covid, che per paura di morire abbiamo scelto di non vivere. Perché non mi dite che è una vita questa qua. Segregati in casa, ci hanno impedito qualsiasi contatto sociale anche con i nostri parenti più stretti. Cioè, viviamo nel terrore quotidiano, non sarà mica vita questa. Quindi per paura di morire ci hanno fatto scegliere di non vivere. E ora, se, come è stato detto durante l'estate scorsa, è colpa dei giovani che hanno fatto la movida, scusate, ma ci dicono i scienziati che il tempo medio di incubazione del virus va dai 3 ai 10 giorni. Cioè, chi è che mi fa credere che in estate i nostri giovani hanno vissuto, hanno vissuto, e che poi le conseguenze le abbiamo cominciate a pagare a ottobre-novembre? Ma chi vogliono prendere per il culo questi qua? Allora, per dire, smettiamo di mettere la croce addosso ai giovani che hanno il diritto di vivere, ma non solo i giovani, per dire, tutti abbiamo il diritto di vivere. Ecco, dicevo prima, allora, ci spieghino come mai c'è stata questa prescrizione da parte del governo, vigili attesa tachipirina. Invece, curando con i farmaci giusti, hanno dimostrato che si può guarire dal Covid. Uno. Qualcuno ci deve spiegare come mai, da quando si è manifestato il Covid, non ci sono più morti per influenza. Quando ogni anno i nostri ospedali, le terapie intensive, erano sature ogni anno, con decine di migliaia di morti ogni anno per l'influenza A e B. Qualcuno mi spiega perché è sparita l'influenza. Qualcuno mi ha detto, per la forza, mettiamo la mascherina e quindi l'influenza non ci coglie più. Scusate, ma se la mascherina serve per proteggersi dal virus dell'influenza, ci dovrebbe proteggere anche dal virus del Covid? Sì o no? Eppure non ci sono più morti, tutti vengono classificati come morti per Covid. Qualcuno mi spiegherà se sono morti per Covid o con il Covid. Qualcuno mi spiegherà quali saranno le conseguenze del fatto che, siccome in qualsiasi ospedale c'è l'emergenza Covid, allora una persona che deve farsi una visita per poter verificare se deve essere diagnosticato o meno una malattia tumorale, l'insorgenza di un tumore, ebbene vengono portati avanti nel tempo gli appuntamenti per qualsiasi altra malattia e le conseguenze della trascuratrezza di alcune patologie porta a morire. Questo porta a morire per dire no, quindi queste le vedremo di morti in quella direzione, però ci dovranno spiegare gli scienziati. Io dico, bene, allora qualcuno ci spieghi sta roba qua. Per quanto riguarda poi i dati veri sulla mortalità, i dati veri sulla mortalità, perché io non sono medico ma parlo spessissimo con i medici, e anche con questi medici che hanno curato i loro pazienti a casa e hanno ridotto a zero la mortalità e i ricoveri in ospedale. Dopodiché qualcuno mi spiegherà, scusatemi, ma sta questione dei vaccini, io mi sono, girando per il mondo, mi sono vaccinato per tutto, per tutto, però sono molto diffidente su questo vaccino, perché dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità che un vaccino prima di essere messo in commercio, cioè diffuso su larga scala, deve avere un periodo di sperimentazione che va dai 5 ai 8 anni. Questi vaccini li hanno messi in commercio, li hanno messi in commercio, dopo pochi mesi di sperimentazione. Poi lasciamo perdere chi è contro gli OGM che non sa che questi vaccini sono OGM, per dire no, quelli che sono sperimentati. Ma a parte questo, allora, sti vaccini, io sono dell'avviso, adesso qualcuno vuole imporre il passaporto vaccinale, cioè non ti dicono ti costringiamo a vaccinarti, ma ti dicono se non sei vaccinato tu non puoi più prendere l'aereo, prendere un treno, una metropolitana, non puoi entrare in un negozio, e via dicendo. Puoi anche non vaccinarti, perché non possiamo importelo, però se non ti vaccini e ti fai il passaporto vaccinale, tu vieni privato di qualsiasi libertà individuale. Però il partito di governo Forza Italia si è proprio esposta con un leader un paio di settimane fa, dicendo noi siamo assolutamente a favore del passaporto vaccinale. Forza Italia, insomma, comunque si è esposta. Io so che l'infallibilità è solo di Dio, l'infallibilità. Sbagliano anche i politici. Sbagliati.